Dylan Dog old boy numero 14 dell'agosto 2022 con due storie inedite, il posto delle ombre e la gabbia ipnotica. Wabalabadabdabe bentornati su No Mamamazzo, bentornati nella rubrica fumetti e nella rubrica Dylan Dog. Come sapete, se mi seguite già da mo, non prendo sempre con abitudine ormai l'old boy perché non è tanto nelle mie corde, però per qualche strana ragione questa volta mi sentivo di comprarlo, non lo so, ispirato forse dalla copertina che come narrano appunto nell'editoriale è ispirata a un quadro, ovvero ritratto di un artista di David Hockney e quindi magari qualche reminescenza della mia live su Dylan Dog e l'arte che vi lascio qua nelle schede e qua in descrizione e voi perché magari voglio avere anche qualche argomento in più di cui parlare nella mia prossima live a tema fumetto che farò con Luca DJ, Curro del canale di Curro e Umberto di Pelati e Fumetti dove parleremo un po' di quello che abbiamo letto quest'estate e niente, volevo toccare un po' tutte le testate di Dylan Dog per l'occasione. Prima di cominciare, se ancora non lo avete fatto dato che ho parlato di live, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di attivare la campanella delle notifiche di condividere il video con tutte le persone che sanno leggere e di commentare qui sotto con quello che viene parso di questo numero e di questo mio video e iscrivetevi anche agli altri miei social tra cui Instagram, TikTok dove faccio qualche mini recensione adesso e Twitch dove appunto ci sarà questa live a tema fumetto il 9 settembre venerdì. Devo ammettere che ancora non ho capito dal punto di vista tecnico cosa rende di un fumetto scritto in questi anni una storia old cioè non riesco a spiegarlo tecnicamente ma lo percepisco e queste due storie sono due storie vecchie cioè con uno stile molto vecchio, anni 80 ma mi hanno ricordato anche molti Diabolic degli anni 70 e lo dico nel modo più positivo possibile. Queste storie hanno un non so che di retro che però mi è piaciuto davvero tanto. Forse sono oltre chiaramente anche alla griglia classica ma sappiamo, abbiamo già visto in altri numeri, in altri video in cui io ve ne ho parlato che una griglia classica non implica una storia vecchia, anzi uno stile vecchio, può essere tranquillamente uno stile molto moderno. Quindi non so se è la griglia classica ma sicuramente all'interno della griglia classica ci possono essere magari dei primi piani delle figure intere disegnate semplicemente in maniera frontale in questo modo, vedete, con una leggera torsione del busto ma in modo che tutte le persone siano inquadrate frontalmente, non lo so, fatto sta che entrambe le storie che non sono disegnate dallo stesso disegnatore ma la prima storia è di Montanare Grassani e la seconda storia è di Roberto Rinaldi cioè nonostante entrambe le storie hanno un non so che di retro che mi ha stavolta davvero entusiasmato anche perché la storia di per sé è molto, le storie di per sé sono molto coinvolgenti. Forse anche la storia medesima ha dei tratti pulp un pochino retro che mi hanno un po' coinvolto in questo viaggio nel tempo del fumetto. La prima storia dal titolo appunto Il posto delle ombre per certi versi mi ha ricordato, non lo nego, qualche storia anche passata di Dylan Dog come Attraverso lo specchio o Riflessi di morte e anche qualche storia di Samuel Stern come per esempio Simulacra non riuscivo bene a capire cosa... dove volevano andare a parare con questo strano macchinario che è stato un po' appunto il McGuffin per far mandare avanti la storia. In realtà io pensavo appunto che questo macchinario creasse in un certo senso dei cloni mostruosi che separasse appunto le anime buone da quelle malvagie come spiegavano appunto in questo numero ma onestamente fin dall'inizio io temevo o pensavo che la fidanzata di Dylan Dog ovvero la bambina che per prima aveva provato questa specie di sedia elettrica fosse in realtà la parte malvagia. Io pensavo che finalmente avremmo scoperto che per tutti questi anni la parte buona di questa ragazza fosse stata imprigionata all'interno di questo castello e invece su questa cosa sono stato smentito. Devo dire che un po' questo colpo di scena finale sarebbe stato magari un valore aggiunto tipico di Dylan Dog ma invece la storia è andata su altri lidi e in questo modo sono stato spiazzato perché chiaramente mi aspettavo un colpo di scena alla Dylan Dog invece ho avuto una storia totalmente diversa, abbastanza lineare che ha spiegato appunto fondamentalmente il passato di questa persona che è stata appunto divisa da questo macchinario. Non hanno assolutamente guastato, anzi è un valore aggiunto, tutte le scene splatter di questo numero. Si ammazza impunemente con la scusa che sono cloni malvagi, che non si capisce cosa sono che forse sono cattivi, sono mostri eccetera, vediamo tranquillamente delle persone squartare loro stesse o squartare le versioni cattive di persone che conoscono e queste persone malvagie, questi cloni malvagi non sono certo da meno. Mi ha stupito anche molto una scena in cui un bambino viene in un certo senso ammazzato in scena seppur non in primo piano, vediamo proprio una cetta conficcata nella testa di un bambino che non è una cosa che mi aspettavo da un numero di Dylan Dog moderno sono felice che abbiano osato un pochino. Di tutto questo la parte un po' forzata, se di forzato si può parlare dal momento che siamo ben immersi nella fantasia, è il fatto che anche tutte le altre persone oltre alla fidanzata di Dylan avessero un clone solo perché erano legate a lei. Ecco, io qua avrei preferito una spiegazione diversa, magari che tutte queste persone, Dylan compreso anche solo entrando nella stanza famosa, avessero in un certo senso duplicato loro stessi però va bene così, chi se ne frega. Mi ha intrattenuto, ecco, perché dall'old boy io semplicemente cerco un intrattenimento non cerco qualcosa di più, quello magari me lo aspetto nella serie madre, nella serie regolare e a volte appunto rimango deluso, ma dall'old boy mi aspetto del puro e sano intrattenimento retro e qui l'ho trovato. Nella seconda storia la gabbia ipnotica con una prima tavola, quasi splash page che inganna, inganna molto e l'hanno fatto apposta in cui Dylan Dog guarda la televisione e io mi aspettavo tutto forché la storia che ho letto mi aspettavo che la tv come gabbia ipnotica avesse in un certo senso il ruolo del villain di questo numero e in questo senso sarebbe comunque stato un numero molto classico, molto retro ma lo avevamo già visto, ci sono stati diversi espedienti narrativi in cui la tv era malvagia non so se anche Canale 666 parlava di questa cosa ma rinfrescatemi la memoria qua sotto nei commenti e invece no, la gabbia ipnotica ci mostra una vera e propria seduta di ipnosi dove c'è appunto questa ragazza questa ragazza che è la fidanzata del mese di Dylan Dog ecco, forse la cosa che unisce queste due storie e che sa un po' di già visto proprio per questo è che entrambe le protagoniste femminili di questa storia coinvolgono Dylan perché sono la fidanzata di Dylan quando in realtà potevano assumerlo per il caso anche se nella seconda occasione vediamo che la protagonista ha assunto effettivamente Dylan per il caso ma Dylan Dog ha rifiutato il caso ma ha iniziato a frequentare la sua cliente cosa su cui non è nuovo fare Dylan dal punto di vista meramente grafico, meramente dello stile di disegno io apprezzo di più lo stile della seconda storia questo ci tengo a dirlo anche se sono due stili molto diversi ciò nonostante ho trovato la versione bambina della protagonista un po' troppo adulta ecco, non sembrava affatto una bambina di 7 anni sembrava la versione piccolina di questa donna adulta sembrava come quando gli Hobbit nel Signore degli Anelli appunto vengono rimpiccioliti digitalmente ecco, semplicemente ci sono un po' troppi zigomi in una bambina di 7 anni avrei anche solo cambiato magari anche l'acconciatura per dargli un aspetto più giovanile la storia del secondo numero scava proprio anche nella mitologia classica di Dylan Dog mi viene in mente vivono tra noi e parla appunto di un vero e proprio rettiliano che è condannato a questa vita a cambiare un po' forma e a dover scappare sempre dai suoi affetti questa volta non ci è riuscito e purtroppo ha coinvolto questa ragazza che poi si scoprirà avere un rapporto particolare appunto con questo protagonista con questo mostro devo dire che mi è piaciuto molto anche il finale malinconico in cui questo mostro non è riuscito a ottenere quello che voleva o meglio, alla fine questo mostro non era così tanto bravo come raccontava alla protagonista ma ciò nonostante mi è dispiaciuto per lui che la protagonista femminile non abbia scoperto la verità sia stata protetta da una bugia da parte di Dylan Dog per poco perché poi vediamo il plot twist finale che poi ce lo si poteva anche aspettare dove appunto potrebbe collegare i puntini menzione d'onore tutta mia che sono un appassionato di Ghostbusters e di Blues Brothers vorrei chiedere al disegnatore se qui c'è stato un chiaro omaggio a The Necroid perché tra le tante facce che ha assunto il mostro c'è stato anche un giovane The Necroid vorrei appunto scoprire se ho visto giusto se mi sono sbagliato e vorrei anche scoprire se anche gli altri personaggi sono un omaggio a degli attori che magari io non ho riconosciuto o se voi li avete riconosciuti scrivetemelo qui sotto fatemi sapere voi cosa ne pensate di queste due storie se vi hanno intrattenuto sotto l'ombrellone se vi hanno intrattenuto, vi hanno dato un po' di vibes da storie che leggevate quando eravate piccolini o se invece non vi hanno soddisfatto se preferite altre testate io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino a qui e con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video se invece per vederci così di persona vi comunico che al 90% dovrei essere al Genova Comics questo weekend il 10 e l'11 di settembre quindi se siete dalla Liguria e siete da quelle parti e eccetera fatemi ciao ciao con la manina che io sono lì a farmi i beatacci fatti miei ma vi saluto volentieri arrivederci ancora e al prossimo video